La FNOMCEU ha lanciato un sito, ma è vero che? Qual è il motivo per cui avete deciso di far partire questo progetto? Perché rispondiamo a un dovere deontologico, quello di informare in maniera corretta la popolazione in un'epoca in cui le notizie che circolano in materia di salute sono spesso distorte e rischiano di compromettere la salute della popolazione quindi si è fatta questa scelta in ottemperanza con quelli che sono precisi i doveri del medico si è valutato un attimino quali sono i fondamenti scientifici per parlare, per comunicare efficacemente sul web e abbiamo dato vita a dottoremaverochè.it che a distanza di otto mesi sta avendo degli ottimi riscontri